PEGI 7 La lettera è arrivata! La bacchetta è stata scelta! Il cappello è pronto! Torna Hogwarts e scopri Ogni storia Ogni incantesimo Ogni strega e mago Ogni Weasley Weasley, Weasley, Weasley e Weasley Ogni portiere Pluffa, Tassorosso, Ippogrifo Babano, Mandragola e altro ancora Grazie a tutti Condividi la magia con la nuova generazione P.S.4 for the players